Grazie 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 Alla prossima. Grazie. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Se volete fare un'amazon, potrebbe... Un'amazon è ok? C'è un'amazon. Non, non lo so. Gies, no, non lo so. È un'amazon. È un'amazon. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. There's two drinks on your cocktail. Yeah, he's for the t-shirt. I don't touch because I don't know if it's gonna come back or not. It's good. All right. Perfect. All right. 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 Take the tea. All right. Un po' di più, un po' di più. Grazie. 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 Grazie.